Ah no! Ah! Mi ha rotto la famiglia! Ah! Oh! La visse! Ah! Non riesco! Si riesco! Ah! Non riesco! Ah! Non tocco! Non tocco! Non tocco! Qui! Ah! Tutto è tornato tu! E tu! Ah! Chi veniva prima? Chi veniva prima? Quando sono andato? Vedi? Ah! Vedi? Ah! Vedi? Ah! Vedi? quindi andiamo è giusto è giusto dimenticare guardiamo andiamo 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 per la parte e la